Il nostro inviato è Alessandro Rinaldini, Guglielmo Cevoligna, è un politologo, docente universitario, esperto in geopolitica, l'IMES e quant'altro. Cosa sta accadendo? Perché alla fine da una parte è stato ucciso il generale, poi sono partiti i missili, uno magari ha colpito anche l'aereo ucraino, perché questa è un po' la verità, se no non avrebbero alcun problema a dare le scatole nere recuperate. Sembra che sono stati trovati dei pezzi di un missile, quindi al di là della scatola nera qualcosa di strano c'è. Però intanto abbiamo sentito Trump, la dichiarazione, il discorso di Trump, che è stato un discorso ovviamente sempre bisogna pensarlo, rivolto soprattutto ai suoi elettori, e questo discorso comunque di Trump però è stato tranquillizzante per certi versi perché ha detto, come dire, facciamola finita qua, nel senso che la risposta iraniana non ha avuto alcun effetto perché non ci sono stati morti americani, adesso se c'è stato questi morti dell'aereo è un'altra cosa, ma insomma non ci sono stati morti americani, dal punto di vista americano era la cosa più importante e quindi non sono riusciti a colpire gli americani, tra l'altro anche i messi il Patriot sembra che abbiano salvato anche le nostre truppe che sono lì tra l'altro a fare un ruolo... E' il secondo esercito in numero maggiore dopo gli Stati Uniti d'America in Iraq. Però ecco, lì siamo abbastanza benvoluti, c'è un modo diverso di vedere gli americani e vedere noi, noi siamo con funzioni di istruzione, quindi è diverso da... e quindi sembrerebbe tutto a posto, tutto a posto nel senso che fatto il colpo che è riuscito a Trump la risposta non ha avuto risultati e quindi facciamo pari e patta. In realtà è un ragionamento un pochino più complesso perché bisogna tenere conto che molto probabilmente se gli Stati Uniti vogliono ancora rimanere in Iraq dovranno ancora investire in truppe e qui è il problema perché il tentativo che stanno facendo gli Stati Uniti è quello con dei piccoli colpi come questo oppure un po' di tempo fa, se vi ricordate, con il bombardamento in Siria per mettere a posto un po' la Russia e la Turchia che si stavano spartendo tutto, questo a metà dell'anno scorso. Ecco, con questi raid che un po' fanno gli Stati Uniti si vorrebbe per certi versi far capire che chi non si mette in riga con gli Stati Uniti la paga cara, però per certi versi anche in teoria non spendere i soldi di una missione vera e propria perché l'apparato americano sa che fare una missione vera e propria in quelle zone e così si va verso un nuovo Vietnam. Quindi ecco, la nuova dottrina Trump potremmo cercare di interpretarla perché o pensiamo a un cavallo pazzo oppure pensiamo a questa dottrina che cerca da un lato di risparmiare soldi e di coinvolgere altri soggetti forse anche di lasciare fare altri soggetti perché vedete che in Libia, per esempio, la Turchia e la Russia si stanno, per certi versi, spartendo... Però il Falaci ieri ha detto al buon Conte mi stai prendendo per i fondelli non puoi chiamare Aftar che è il mio nemico ed io sono il presidente riconosciuto da loro. Qui l'Italia dovremmo fare una riflessione in Italia perché l'Italia avrebbe come la Tripolitania la cosa che interessa più è la Tripolitania Oggi come oggi noi saremo fuori da tutti i giochi Noi siamo fuori da tutti i giochi Perché Aftar ha Putin e Macron Sharassi ha adesso Erdogan e quindi possiamo dire che... Infatti noi abbiamo probabilmente sbagliato a cercare di farci amico a Aftar di fare noi un affinto... Quando l'altro è riconosciuto dalla comunità internazionale giustamente non sarei andato nemmeno io Oltre a questo fatto c'è un altro elemento i nostri interessi sono principalmente in Tripolitania E tra l'altro è vero che gli unici soggetti siamo noi che abbiamo inventato la Libia e invece dal punto di vista del sultanato di un'espansione dell'influenza di Erdogan per esempio la dominazione ottomana era molto diversificata in Libia vedeva la Cirenaica come una zona diciamo con un'influenza diretta una provincia del sultanato e invece la Tripolitania come più autonoma quindi ecco queste differenze ritornano quasi a galla e noi invece puntiamo ad avere una Libia unita che non si sa se riuscirà più a essere la verità ecco la realtà quotidiana dell'attualità internazionale Grazie ancora Grazie a voi Guglielmo Cevoli sempre